Quindi andiamo a tosare la zona interessata dove andremo poi ad eseguire il prelievo di sangue. Ci muniamo di un battuffolo di cotone imbevuto di alcol con il quale passiamo alla zona interessata così da fare una blanda sanificazione e anche visualizzare meglio il vaso. A questo punto con la butterfly, con la smussatura che sarà rivolta verso l'alto, vengo a introdurre l'ago con un'angolatura di circa 45 gradi rispetto al vaso. Mi trovo quindi a quel punto all'interno della vena e vedrò il defluire del sangue nel tubicino e una volta che raggiunge l'estremità più distale vengo ad agganciare il vacutener con la mia camicia e quindi la provetta. Terminato il prelevo vengo a muovere con movimenti di capovolgimento la provetta così da miscelare con l'anticoagulante il mio campione e applico un vendaggio per garantire l'emostasi.